Cedric, benvenuti all'Inter. È quasi come se questo accordo veniva accettato, come ti senti? Sì, sono molto felice. Ho un sogno di questo per un lungo tempo, e ovviamente venire all'Inter è un sogno di vero. È un team incredibile e un club, e sono molto felice di essere qui. Pensa che le sue caratteristiche si sposino con il gioco dell'Inter? Sì, ovviamente. Prima di tutto, credo che sia molto importante per il tuo tipo di gioco di gioco, anche per il tuo tipo di gioco di gioco. Ho visto l'Inter prima, e l'Inter, ovviamente. Mi piace molto quello che stanno facendo. Ho anche l'opportunità di parlare con Gio Mario, e di sapere un po' di più. e, ovviamente, sono molto felice di essere qui. E credo che il mio tipo di gioco è totalmente adattato per l'Inter. Io, ovviamente, avrei un periodo dove ho bisogno di studiare e studiare anche con i miei amici, e continuare a crescere con i miei amici. Ma sono sicuro che sarà bene. Hai parlato di Gio Mario, i miei amici amici, dopo il tuo spazio di Sporting e della squadra, hai avuto l'Europa in 2016. come ha fatto il tuo avuto il tuo carriere, e cosa ti ha detto di Gio Mario? Gio Mario è una domanda di Gio Mario. Gio Mario è una domanda di Gio Mario. Gio Mario è una domanda di prima. Abbiamo cresciuto nella stessa club. Gio Mario è un po' di più, ma siamo molto bene. con i miei amici. E' stato un piacere per me venire e giocare con i miei amici. E, ovviamente, mi ha detto un po' di più, Mi ha detto un po' di più. Mi ha detto un po' di più. Mi ha detto un po' di più. Mi ha detto come è l'attività di giocare e come è l'idea. E, normalmente, l'Inter è in un grande club che gli piace di controllo, e anche molto organizzato. E, ovviamente, mi è stato molto piaciuto per avere questa possibilità di venire a venire e di fare, ovviamente, con il loro gioco per aiutare il intero. Se non è giusto, hai scoperto due due giocattie di Southampton in Europa fra l'injurio. Che ti sono accettato a giocare a San Siro? San Siro è come un stadio leggeroso, no? Penso che tutti quando sono male in scuola e hanno un sogno, si sono chiesto di giocare nel stadio completo e quando si sono chiesto di giocare a San Siro, è pieno di storia, molti piacere in gioco. quindi per me è stato un piacere, un piacere di giocare. Quando ero giovane, ho pensato di oggi, ho fatto una foto di un team in un libro di scuola. Quando ero figli, si poteva qualcosa sul topo, e ho fatto una foto di tutti gli interplayersi, il team è stato il mio piacere, quindi magari c'è un motivo, e mi piace di credere in queste cose. Final questione, questo è un anno grande per te, in termini del club, con l'Inter, tre competizioni, e anche la Nazione League, in cui sei se sei in la squadra, a casa, in Portugale. Quali i tuoi target per questo anno? Qui in Inter ho arrivato, voglio prima di giocare in fronte di tutti gli italiani, gli italiani, gli italiani, gli italiani, gli italiani e gli italiani. E anche per essere potuto aiutare l'Inter a ottenere qualcosa. Inter è ancora in molti competizioni, ciò è molto bene. Per la squadra nazionale, prima di tutto, devo fare la squadra. Per questo, ovviamente, come sempre lo faccio. E, sì, credo che in Portugale è una grande competizione. La squadra nazionale è stata una buona, una piccola, ma un'intenzione. E, sì, credo che sarà molto bello, se ho avuto l'opportunità di giocare, in questo tipo di competizione. della squadra nazionale, Grazie.